Venezia con Giulia che ci racconterà la storia di questo antico palazzo ha le sue origini iniziali se ti incazzi dai fuoco a tutto siamo qui con Giovanni, uno degli organizzatori di... il signor Lupo è un artista di strada quali sono i suoi strumenti tipici? le papere siamo nella libreria di via Nilo Librido con il signor Roberto e quindi si occupa appunto... no rifacciamo questo progetto, siamo qui con il signor Fabio cosa ne pensa di questo progetto? penso che si risparmi moltissimi soldi che grazie, che grazie, che grazie, che grazie la civile, c'è i... la popolazione, c'è i... la popolazione, la civile, c'è i... in merito al... non rifai per rivistarli in merito al... no vabbè Maria Cerillo? ok Maria Cerillo? ok Maria Cerillo? ok è una delle botteghe più antiche della... di Napoli è una delle botteghe più antiche di Napoli con il signor Ferraio ciao siamo al simile di queste parti ciao tanto questa si taglia è una delle botteghe più antiche di Napoli ok oh 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 oh